a giramo a torino e dovevamo inventare il mestiere che facevo io come migrante meridionale a torino e lì se fai come gireremo nel mercato il portapalazzo per un mercato enorme di verdure di carne di pesce io dico facciamo che lavoro acqua del pesce così mi è sempre piaciuto l'idea di fare in un film una cosa che sto nascosto da qualche parte faccio con un contatto elettrico faccio saltare i gamberi così uno dice sono freschi gli scampi che ne so guardate si muovono eccetera eccetera e quella fu una cosa che mi è rimasta molto impressa e poi il fatto della schedina del totocalcio la vincita parola che era sordomuto e ha ecco è la fidanzata mia che era mara veniere che quel periodo era la fidanzata che sarebbe diventata subito dopo la moglie di gerica la e quindi c'è stato poi ogni tanto ci sono dei ricordi quando vado la mara a domenica il quando ci siamo visti mille volte in qualche avvenimento in qualche cosa ci ricordavamo sempre di questo film sono film che rimangono impressi perché parlano di un argomento che è sempre attuale ancora oggi uno se potesse se vincesse una bella cifra si capisce che subito dopo avrebbe intorno 2000 persone che vogliono soldi e quindi te la devi saper gestire la cosa